Abbiamo in studio Angelo Petrella, autore del romanzo Operazione Levante di Baldini e Castoldi, che è un thriller sull'attuale scenario internazionale dove ci sono un agente CIA, un ex agente russo, dove ci sono molte spie, dove c'è una giornalista molto ambigua, ci sono Putin, Obama e soprattutto ci sono i grandi conflitti, la Siria. Volevo chiederti, cosa volevi raccontare della complessa realtà di oggi? Beh, diciamo, io volevo soltanto scrivere una spy story come i miei miti, John Le Carré, Frederick Fawcett, eccetera, e mi sono trovato in realtà a studiare la cultura araba e il mondo medio orientale. Volevo innanzitutto far vivere il presente, che è cronaca ovviamente, ma che in qualche modo può essere storicizzato quando ci sono eventi così eclatanti. Tu racconti i progetti economici, i traffici, lo spionaggio che c'è dietro ai conflitti, quindi immagino avrai fatto anche delle ricerche, che cos'è in questa fase di ricerca anche che ti ha colpito di più? Innanzitutto c'è da dire che le risposte della verità sono sempre le più semplici. Quella guerra la si combatte per due motivi fondamentali, uno geopolitico, spazio vitale, l'altro soprattutto petrolio e gas, quindi approvvigionamento energetico. E in questo marasma di conflitti e di interessi diversi tra russi, turchi, iraniani, sauditi, eccetera, eccetera, si perde di vista molto spesso quello che sono le piccole storie, ad esempio quella della minoranza kurda, che è poi l'unica che realmente combatte boots on the ground e ferma l'avanzata dell'Isis nelle terre siriane e in Iraq. Si dice sempre che gli intellettuali, gli scrittori, l'arte non hanno, non possono più intervenire. Un compito forse la letteratura ce l'ha ed è quello di scandagliare sulle cause che generano la storia. Dopo aver scritto questo libro hai capito qualcosa di più di tutto questo mondo? Sei più spaventato? Ti sei trovato una ragione, una rassicurazione? Sei più pessimista, ottimista? Non mi sento più pessimista, mi sento solo più arrabbiato per il fatto che così poco si vogliano studiare le cause e le motivazioni degli scontri e il cui studio probabilmente potrebbe portare a una più facile e immediata risoluzione. In realtà se tutti ci rendessimo conto che il vero problema è l'approvvigionamento energetico e la lotta per procurarsi i pozzi, potremmo anche intervenire personalmente, boicottandoli per esempio o comunque facendo leva sui nostri governi affinché le fonti di approvvigionamento diventassero altre o venissero gestite in una maniera più equa. Grazie.